Amici e amici, qui Oksana Fiedi che parla. Oggi vorrei parlarvi di tecniche e meditazioni e esercizi di famoso libro scritto su un filosofo russo, almeno per la precisazione, Gurdjieff. La filosofia di Gurdjieff ci dice che maggior parte del nostro tempo passiamo dormendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi funzioniamo in automatico, ci svegliamo in automatico, laviamo i denti, prepariamo la colazione, chiudiamo la casa, ci saliamo in macchina e diciamo ops ma ho chiuso la porta. Vuol dire che noi in quel momento non eravamo attenti, non eravamo consapevoli. Ogni nostra cosa facciamo in maniera automatica. Infatti Gurdjieff chiama il nostro corpo a processi del corpo, i processi chimici, ma se acquisiremo la consapevolezza e attenzione ci diventiamo come dei bio computer. Ho dedicato già tantissimi video come possiamo sviluppare la nostra attenzione e come possiamo domare quel dialogo interiore, quel flusso di pensieri che ci stanno nella nostra testa e che ci impediscano di essere in noi stessi, di essere proprio consapevoli. Perché mentre che facciamo le cose in automatico, noi anche pensiamo a tutto ciò che arriva caoticamente nella nostra testa. Ma i nostri pensieri da dove arrivano? E perché un essere umano che riesce a fare tante cose e non riesce a fare unica cosa che dovrebbe fare, comandare i propri pensieri. Provate a fare con me questo piccolo esperimento. Cercate di non pensare niente. Fate un respiro, un ispiro, cercate di non pensare nulla. Silenzio. Quanti di voi sono riusciti a bloccare il flusso dei pensieri? Scometto in pochi. Io ci ho messo in mesi per imparare a bloccare il mio dialogo interiore e voi mi dite e cosa me ne faccio quando blocco i pensieri. Invece quando noi blocchiamo il nostro pensiero diventiamo i padroni di nostro avatar, di nostro corpo, di nostro essere, della nostra consapevolezza. Quando non pensiamo che dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo ritirare i figli dalla scuola, che dobbiamo svolgere un lavoro, dobbiamo poi andare fuori, portare i cani, incontrare, chiamare un amico o amica, risolvere un problema con un capo o con un superiore. Tutti questi pensieri ci tolgono proprio il flusso vitale. Noi nutriamo il nostro corpo perché deve funzionare e se vi dico che il lavoro del nostro cervello consuma 50 per cento di tutte energie che noi introduciamo nel nostro corpo attraverso il cibo. Solo pensate quanto voi sprecate di risorsa preziosa, risorsa forza vitale nel pensare e se noi liberiamo questa forza e impariamo a pensare solo quando vogliamo noi e solo quello che vogliamo pensare per raggiungere magari un progetto, un obiettivo. Allora tutta questa forza vitale ci aprirà dentro di noi anche le nostre capacità extrasensoriali, ci aprirà il mondo invisibile, i canali dormenti. Perciò con questo libro faremo alcuni esercizi che registrerò una sequenza che vi aiuterà a imparare, percepire, a radicare, a fermare il dialogo interiore e sviluppare queste qualità. Perciò seguirà una serie di video in quale registrerò esercizio, meditazione che serve anche a me. Poi se volete unire con me io sarei solo grata, perché siccome questi esercizi vanno fatti tutti i giorni e ovviamente uno non può sfogliare il libro e dice cosa devo fare come prossima tappa, io vorrei registrare questi esercizi tal modo che farò io e se vi unite con me e fate insieme raggiungeremo un risultato molto prima perché formiremo anche il nostro campo energetico. Poi volevo dire che questa faccenda di consapevolezza, sviluppo spirituale delle nostre capacità non viene solo da questo libro che parla degli esercizi, ma poi c'è questo fantastico libro di Kuspensky, alla ricerca del miracoloso. È molto grande, perciò tutto quello che noi faremo nella serie di esercizi e meditazioni che pubblicherò e proviene da queste due fonti. E allora passiamo al primo esercizio delle tecniche di Gurgiev, esercizio di osservazione, percepire. Alcune cose vi racconto io, alcune vi leggo così anche potete ascoltare una parte del libro scritto da Bruno Martin, le pratiche di Gurgiev, che sono esercizio rituale e danze sacre per sviluppare la consapevolezza. Allora ascoltiamo questo piccolo articolo relativo all'esercizio di osservazione, percepire. Se desideri approfondire la tua esperienza, la percezione è un punto di partenza fondamentale. Questo esercizio non ha limiti temporale, poiché nella vita è importante proprio percepire qualcosa. Datti un compito di notare ogni giorno qualcosa che altrimenti non avresti notato. Ovviamente se ora ti ricordi di osservare una volta la polvere sulle mensole della libreria, la noterai anche quando ti alzerai e andrai a guardarla. Non so se vi è chiaro. Noi osserviamo la polvere che andiamo a pulire, ma spesso non ci rendiamo conto quando ci alziamo e andiamo fatto questo compito, perché siamo concentrati solo per raggiungere un scopo finale, dimenticando completamente tutto ciò che facciamo fino ad arrivare questo scopo. Perciò solo con la prima frase viene chiarito che anche se noi diciamo, ma no, siamo svegli, in realtà non siamo svegli, perché solo una parte noi facciamo in maniera cosciente e consapevole. Tutto il resto avviene in maniera automatica. Perciò dobbiamo fare un compito giornaliero, notare qualcosa. Dobbiamo per esempio farci un compito. Oggi noto tutte le auto rosse e qualsiasi cosa che faccio io devo notare ovunque che mi circonda le auto rosse. Questo ci abitua il nostro corpo di risvegliarci. Oppure magari ti fai un compito. Oggi vorrei notare tutti i colori viola, ovunque che li trovo. O tu dici, posso notare tutte le auto o determinato modello. Ognuno di noi potrà inventare qualsiasi cosa, purché richiama la propria attenzione. Oppure, pur difficile, è per esempio avere un compito di osservare e notare come ti tiene la testa. Molti inconsapevolmente tengono la testa piegata in avanti. A volte anche di sbecco, spesso in modo scomodo o rigido. Ripromettimi d'ora di ricordarti il più spesso possibile di fare attenzione alla postura della testa. Segniti ogni volta per poter verificare a priori quante volte hai focalizzato la posizione della testa. Quando noterai nuovamente, dovresti anche osservare se i tuoi muscoli erano tesi o rilassati. Se percepisci le tensioni, cercali di sciogliere consapevolmente. Ricordati dell'esercizio e sfrutta l'occasione, per stare seduto in modo rilassato. È importante notare che grazie a questo piccolo accorgimento avrai un contatto migliore con il tuo corpo. Rappresenta inoltre una sfida interiore che rende possibile osservare anche molte altre cose. Puoi anche decidere di vedere una collega o un collega durante il lavoro, in modo più consapevole del solito. Ti ricordi di quale colore è la montatura dei suoi occhiali? È il colore delle scarpe? Hai mai fatto caso al ronzio dei tubi al neone in ufficio? Tenta ogni giorno di percepire di più rispetto al giorno precedente. La percezione succede all'improvviso, ma se non la applichi come esercizio intenzionale, percepirai qualcosa solo per il caso. Se ti esponi a situazioni che sottragano la tua completa attenzione del comportamento abituale automatico, crei un fattore di memoria o un'ancora. Lo scopo del fattore di ricordo sta nel fatto che ti programmi intimamente a notare un'azione, vale a dire che saltoriamente potrai svigliarti e osservare quello che sta succedendo. Una grande parte di questa pagina è dedicata anche alla tensione e rilassamento. Tensione non è uguale allo stress, tensione è lo stato del nostro corpo quando noi inconsapevolmente magari teniamo sempre le spalle sollivate e solo questo modo sollivando le spalle noi creiamo ostacole a questa energia vitale che circola nel nostro corpo. Perciò è fondamentale di accorgersi in noi di stare sempre rilassati. È anche un modo di percepire, un modo di sviluppare la nostra attenzione, di controllare giornalmente quanto siamo rigidi, quanto sono contratti i nostri muscoli. Molte persone, i primi muscoli che si contraggono ovviamente sono le muscole delle spalle, molte contraggono la mandibola o tengono la fronte corrugata, giusto se dici così. Noi tutto il giorno siamo sempre sotto questo attacco di tensione muscolare. Invece quello che dobbiamo imparare anche con esercizio di percepire è anche rendersi conto quando noi siamo tesi, quando ci impariamo a controllare la nostra attività del corpo e essere padroni del nostro corpo. Allora crescerà la nostra attenzione, la nostra consapevolezza di noi stessi e la nostra realtà sarà gestita da noi stessi. Perché siamo noi proprietari di quando e cosa pensare, siamo noi i padroni del nostro corpo. Chi comanda a noi, sia qualcuno esterno o noi stessi diciamo come dobbiamo essere. Se sappiamo che la tensione provoca anche lo stato di stress alle nostre cellule, dobbiamo essere bravi a ricordare di essere più possibili, rilassati mentre che svolgete qualsiasi compito. E quando questo accade, quel famoso stato di essere in presenza, di essere qui ora, essere consapevoli di quello che stiamo facendo, ci alziamo, prendiamo un oggetto, siamo consapevoli, ma anche di controllare lo stato di nostro rilassamento, noi sviluppiamo questa fonte immensa dell'energia e questa energia libera va ad aumentare le nostre capacità, a quel famoso risveglio della condalini. Passo dopo passo crescendo, così riusciamo anche ad arrivare al risveglio della nostra condalini. Allora primo video è arrivato alla fine, con il prossimo video parleremo di radicamento e facciamo una meditazione esercizio che serve proprio a radicare il nostro corpo nella realtà nella quale viviamo. Al prossimo video, un bacio da vostra Oksana Fedi.